Centro Studi Mecenate, corsi di abilitazione ottiche e optometria. Da 15 anni formiamo gli ottici del futuro. La nostra sede è fornita di aule teorico-pratiche, laboratorio per la lavorazione delle lenti oftalmiche, laboratorio di optometria e multimediale. Inoltre la scuola effettua un corso abilitante di massaggiatore capobagnino di stabilimenti idroterapici e recupero anni scolastici. Centro Studi Mecenate Abitonto, centrostudimecenate.it